buonasera tocca fortunatamente non lo sono ti mandiamo a salvare eonazzo è sempre in riunione fila in riunione ma di che dovete discutere a quest'ora di che pizza prendere non è possibile che sei in riunione buonasera buonasera ciao amici belli che live assolutamente improvvisata buonasera visto ho da saltarne 4.000 mi sono ritrovata a farne altrettante mamma mia c'è un sistema di specchi e leve qua adesso intorno a me che non avete idea qua c'è una fotocamera qua c'è un telefono perché mi voglio fare il timelapse mentre autografo mi devo muovere se rovescio adesso qualcosa sulla scrivania è finita per tutti ciao luis cosa c'è lì dietro scus no è che ho mollato le coperte sul tavolo semplicemente non c'è nulla sono le coperte che tenevo di solito sulla mia sulle mie sedie le tenevo pronte per coprirmi in caso di freddo ma il twist è che non fa freddo fa caldissimo ne devo firmare 5.000 amico ne devo firmare 5.000 amico mio non era un typo non era un typo perché in questo momento non è solo chi avrà la limited a ricevere la cartolina ma tutti quelli che la ordinano online quindi sono 5.000 oltretutto di queste 5.000 mille qualcosa devono già toglierle cioè quindi ne restano altre per il futuro però 5.000 buon segale le prime 5 firme tutte storte con lettere a caso e anche oggi Chiara è stata disegnata ma sorpresa ma da quanto mi parlano le donazioni cosa è successo cosa è successo perché le donazioni mi parlano che fa riderissimo mi fa anche riflettere chi è stato aspetta aspetta dov'è la dashboard scusatemi scusatemi hanno cambiato un po' tutto quanto lista eventi su streamlabs perché si può tornare solo su streamlabs che è successo che mi ha fatto una sorpresa no non è la lista eventi dove sono i miei eventi la dashboard la mia dashboard forza dov'è dov'è no ragazzi non trovo più niente non ci posso eventi recenti eccomi qua eccomi eccomi come 50 euro grazie mille madonna grazie 50 euro regalati così sorpresa ibio ibio sei troppo gentile ti ringrazio davvero mi hai ripagato le magliette che ho preso in questi due giorni per supportare le band che sono andata a vedere in concerto mortacci loro costa un sacco il merchandise delle band in concerto adesso vaffanculo era un po' che non lo compravo grazie veramente sei veramente gentilissimo ti sono debitrice vediamoci a look alla games week e ti faccio un disegno speciale mi ricordo che devo rilogare sul nostro elements passano gli anni i miei problemi no che bello va bene chi si è inculato la dashboard fuori la dashboard fuori la dashboard take a spoon take a spoon of honey and lemon it's another lemon and it has a great taste i would love to have this magic trick on my pronto ready but it doesn't work most of the time it doesn't work it has it's a really serious problem so but since monday i am finishing my honey my multiple honeys at home so yeah at least I will lose all my teeth ciao i bio eccoti come balli che carino che sei 50 euro per visa all'ortopedico dopo stasera le 5k allora ho una polsiera per quando mi vengono le tendiniti che non è questa questa è per quando disegno vediamo in quanto tempo mi sporco mi slercio tutto di pennarello vogliamo scoprire questa cosa bella allora non penso di riuscire a firmarle tutte in live punto esclamativo guantino sporco macchiato imbrattato inzaccherato infangato unto pisunto impataccato sudicio insudicato zozzo lercio lurido maledetto pezza da scrivania giusto così questo fa sempre ridere fa sempre ridere la terza cattolina 0 secondi potrei già essermi sporcata di pernarello no 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 è successo ieri ieri mi sono lavata però mi viene lì dietro sotto il fortino di coperti con lo steaming sta meglio mi hanno sta meglio sì 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 e domani va a lavorare a castare league of legends povero guantino posso farvi dei complimenti enormi moderatori e chat visto che già avete seguito per a tune se siete stati troppo carini quando la live è finita lui era veramente 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 contento l'avete l'avete proprio fatto felice io gli allungavo i commenti quando ridevate quando lo salutavate c'era proprio questo sorrisone sul suo volto e non posso capire come mai non sia una cosa a cui sei abituato quando non vai in streaming quindi non puoi vedere i commenti che arrivano di colpo di solito aspetti un pochino magari guardi su instagram però vedere tutto il pubblico lì era proprio veramente contento quindi l'avete reso molto felice volevo dirvi questo perché è successo offline quindi non potevate saperlo altrimenti quando ci vediamo ti darò 20 euro alla games week stavolta il becco ti salto non solo ti guardo l'anno scorso non avevo il coraggio di romperti no ma vi prego venite a vedere alla games week che ci divertiamo è l'unico momento altrimenti dovete aspettare che io esca di casa perché c'è gente che mi becca in stazione ma in stazione sono tipo molti la maggior parte dei miei incontri con i fan durante l'anno non scherzo sono in stazione centrale a Milano un sacco di gente mi becca lì ed è molto divertente a volte perché mi faccio assolutamente i cavoli voti tu stai andando tu stai andando la maggior parte delle persone va in università quando mi becca a meno che cosa fai eh che cosa fai di università a volte ci facciamo una foto a volte non ce la facciamo perché le persone sono di corsa però se sommiamo tutte le persone che ho incontrato in stazione forse facciamo il numero di persone che incontro alle fiere le sub regalate sono dell'amadrama memesan gadriel zerad pollo 1207 chissà in che anno è nato e barba 96 96 barba scura per caso perché l'abbiamo recentemente visto leggo anche tutte le sub che ci sono state finora c'è la cocaina che fa 8 mesi di resab grazie mille cord last grazie di 4 mesi di resab firme pazze gasanti estendibili vediamo per quanto riesco ad andare avanti salve chat siete bellissime non trattabile under ha deciso under come stai da quanto luiz gifted another subs while i was away thank you so much for another gifted sub to who chi è stato chi ha presa fuori i soldi per luiz john johns grazie di 27 mesi grazie mille darthiory grazie 68 mesi mi ha dato tantissimo un salutino con l'emoticon di gurolili grazie vedo che anche floranger ha regato una sub a ricciaia e lui si ha regato 5 abbonamenti anche ieri che bello subito benissimo benissimo mi slercio subito ci mancherebbe altro che deludo i risultati del sondaggio guarda mi faccio una riga qua jimmo come stai ho già miracolato under è diventata trattabile la cosa minacciato perché ho letto miracolato non diresti mai questa cosa user ma che ho letto you got it on the first try yes thank you luis for making girare di economia dove cazzo le letto miracolato ma che cazzo ne so se fate una sappagata la regalata vi giftano 3 mesi di discord nitro oh è vero ce l'ho anche io drop attivi so vivo sono in mezza situazione di merda ma passerà no vogliamo fare un po' di song request per tirarci su ho i drop attivi benissimo allora pigliatevi sto nitro gratis che se non sbaglio anche una sub regalata lo dico non nel mio interesse di sub perché vale in tutte le streaming se non erro ma nitro costa 35 euro quindi forse conviene era comparsa il bannerino inizio live perfetto e allora dovrebbe esserci se vi venete regalata una sub ricevete 3 mesi di discord gratis beh lasciamolo lì pinnato così vi costa 3 mesi sono 35 euro veramente non sto scherzando non sto scherzando infatti io non lo faccio perché non mi serve a nulla nitro però li voglio non era pronta con la canzone dunque amici miei mentre sono partiti maneskille da meno dei finley qualcosa di alan wakel che ho il concerto a marzo di alan walker volevo dire alan walker conosco faded i'm faded fine forse faded ah no anche alone are we alone piripipiri e piripipiri fine non sono altro di questa persona che però sembra molto brava dark side bella allora praticamente quello che faremo oggi è song request quindi preparate le vostre canzoni che ci sentiamo oggi io ho qualche idea visto che torno da due concerti power wolf e finley e comunque scusatemi eh è davvero 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 assurdo io sta cosa non la capisco l'ho detta oggi a chiara com'è possibile no 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 tranquillo larica non ti preoccupare ma com'è possibile che io dopo un concerto metal di tre band metal power metal che è quello un po' più spinto caldo freddo fuori dall'alcatraz che sono tipo vabbè ma io all'alcatraz ci sono nata praticamente all'alcatraz dove ho visto cento dei miei centocinquanta concerti sono una figlia milanese ehm dopodiché al mercoledì due giorni fa concerto dei fini di due ore e quaranta dove ho urlato come una dannata chi sono i testimoni tutta la prima fila più luna dove gli ho urlato nelle orecchie come una isterica e ho la voce ma ma se faccio un'intervista a Luca sono afona ma come è possibile sta cosa due giorni di fiera e divento afona ma qual è il trucco qual è il segreto cosa cosa mi sono persa qual è la cosa che mi manca anche perché i concerti io li ho fatti la sera quindi il mio periodo di recover della voce cos'è otto ore di sonno ma io le interviste faccio il pomeriggio Beowulf ma io sto ancora mangiando il tuo miele tu non scherzare quello che mi avete visto trangugiare in sti tre giorni di miele è il tuo ancora mi basta però se me ne vuoi mollare altro non ti dico mai di no ci vediamo immagino ma arriva Luca vediamoci a Luca Roberta non dirlo troppo forte ma ormai sono andati ormai ce l'ho la voce se deve esaltarmi la voce è troppo tardi ce l'ho la sto usando anzi che non mi hanno licenziato alla live drawing quindi sono uscita a intervistare Peratuns che era la mia preoccupazione tipo ho fatto i film lei sono tornata a casa parlavo tutte così a un certo punto guardo l'una e gli faccio ma io come faccio a fare D&D e l'intervista con Peratuns questi mi licenziano io ho perso il lavoro a fine non posso fare altro che annaffiare e invece ho la voce non tantissima quella che serve cioè quella che serve per intervistare Peratuns che oltretutto ogni volta che l'ho intervisto sono leggermente afona quindi forse credo che quella sia la mia vera voce quando in realtà non è questa la mia vera voce tutta una questione di adrenalina sì vabbè 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 anticello ma ti metto tutto il cilio dei film e ce lo cantiamo come se fosse una messa religiosa quando tutti si alzano in piedi e sanno tutte le canzoni a memoria ma dove le imparano queste canzoni della messa? Dove hai il cantato della messa? Quando parte un po' ti dico sbasta intanto quando parte la messa e tutti dicono ti ringrazio mio signore non ho più paura però sono tutte le strofe il ritornello l'attacco dammi il basso dammi l'alto alcuni fanno anche le armonie con la voce ma dove sono queste canzoni? Una volta cari nipotini una volta una volta nelle mie chiese c'erano i libretti con le canzoni quindi questa è la canzone se non la sapete andate a pagina 48 quindi la chiesa diventava il karaoke ma si divertivano un casino queste canzoni io non ne sapevo mancuna le ultras delle chiese ma che fanno? le registrano col telefono e se le ripassano a casa? oppure che ci vuoi tutte le settimane e quindi la scaletta del concerto ormai la sai? al catechismo immagino ma io mica le ho imparate al catechismo ero tipo cioè è che ti frustavano se non le cantavi non le sapevo al catechismo non le so adesso quindi serviva qualcosa alla chiesa ma voi vi ricordate che faceva tacche di chiesa? perché io no onestamente non mi ricordo niente forse ho fatto un puzzle una volta in che senso? dove? dai video di monte montesi si imparano non le ho imparato Gesù 3 per noi tu sei davvero grande viva Gesù 3 è Cristian Ice questo è Altre Tempi di Youtube ho cancellato tutto per il mio bene mi ricordo che l'ho fatto per i soldi che cosa? cantare in chiesa? per i soldi si fa Ardux nice 69 mesi ti ringrazio per questa live perché se ti si vuole bene com'è? com'è? tutto molto bene grazie oggi mi mi rilasso un po' mi metto a firmare queste cose fra pochissimo andiamo avanti fino al 9 e mezza di sicuro farò delle delle cose del degli autografi in live il più possibile a volte mi fermerò e farò dei disegnati stupidi per mettere gli easter egg a qualcuno che si beccherà la cartolina speciale con il disegnetto stupido sono sicura di finirle oggi non sono sicura di finirle tutte in live perché sono tante e io ho bisogno di cenare e lavarmi oggi quindi tra due ore stacco la live e faccio il più possibile tanto di base oggi le facciamo magari oggi facciamo quelle stupide e poi off live faccio quelle normali ogni volta che avevo questa natura la versione di Brigitte di Oberbo ci stai benissimo ti ringrazio molto perché Brigitte è veramente una buona uno dei design migliori che aveva fatto la overwatch entertainment quindi si no 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 faccio il channing Emiliano mi ha detto che facciamo il channing oltretutto abbiamo il riso con la lonza e le zucchine la catechista era la sosa di Relic Hunter wow figo le vecchie che vanno ancora a mesa l'hanno imparato lì perché credevano che se non lo fai prendi fuoco allora per prima cosa Robi troppo forte Robi troppo pazza sono io per prima cosa devo controllare che i canti da chiesa siano su Spotify è una questione di vita o di morte in questo modo possiamo iniziare a fare la blast quindi canti da chiesa servo per amore questa non credo di saperla questa la so sì ma cosino troppo lente dov'è il basso no c'è il basso a me piaceva in un mondo di maschere questa voce non mi piace per niente mi dispiace questa coverista ho scritto c e comparso caparezza guarda che salto di album che ti faccio adesso no no cantità chiesa vediamo un po' no su Ali d'Aquila ma io non ne so neanche una tipo guarda quest'offerta guarda quest'offerta come fa re dei re fatto in chiesa no allora io mi ricordo almeno i tamburelli in chiesa scusatemi devo spezzare una lancia a favore della chiesa le canzoni alcune erano dei banger ma che è sta voce camminerò vai oppure ti ringrazio mio vediamo se questa funziona devo trovare uno che ha fatto la cover bella giusto camminerò può anche non essere una canzone da chiesa camminerò canti chiesa vediamo che ha fatto dei chierici si gesù vagamente erano così in chiesa vedi queste ritmate ci piacciono quanto sottovaluto l'organo a canne legato solo soletto in chiesa no tutti quelli che conosco stimano l'organo e pensano che sia il miglior strumento del mondo tutti insieme si può pogare in chiesa certo che si può pogare in chiesa cosa sono gli scapè gli scafè scapè come lo dicevo all'inizio scapè sbaglievo sempre ero piccola dacela ti prego senti la scapè scapì dacela la pia sta per predi dacela bale curse you bale dacela era letale comunque questa la metto in plesso così la trovate fammila chiusa fatemila chiusa fammi sentire no ragazzi ti ringrazio mio signore no chi si sta vedendo il voto sta perdendo una cosa incredibile ma sembrano i nanowar sono i nanowar sotto mentite spoglie da prete non ho più paura ma anche i gemboy solo dacela la mano avalon landing vieni in chiesa con noi buonasera a tutti grazie ai 41 mesi i nanowar of chierici questo capolavoro si chiama ti ringrazio mi signore dei chierici le trovate nelle plest ho messo queste due canzoni nella plest così potete trovarle su Rhapsody of God Agree Pray Cicchio Pray una canzone su Tivelusion no 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 non si parlerà di Tivelusion né ora né mai nessuno parlerà di Tivelusion anche perché tutti quelli che l'hanno come pokemon preferito e non sono pochi sono un po' in imbarazzo in questo momento allora amici direi che possiamo aprire il song request mi piacerebbe molto sapere che cosa volete consigliarmi oggi da ascoltare nel frattempo ci finiamo questa canzone e io metto un po' di mie scelte forza con le domande sì forza con le domande forza con le canzoni che abbiamo delle cartonine da firmare qua intanto vado a prendere un po' di mie cose allora visto che mi sembra che oggi comunque ne ascolteremo tante sto mettendo un po' di canzoni mie in sottofondo quante ne voglio facciamo 15 Lerican grazie mille sei troppo gentile oh ma che banger stai canzoni bravi si chiamano De Chierici e vorrei mettere messa in moto di Caparezza così rimaniamo in tema gradirei una messa in moto senti senti che il bpm è lo stesso Ruggero voglia di amare fratelli e sorelle rinnoviamo Ilando che bella frase ti adoro è incredibile grazie mille fratello bro grazie 23 mesi sarei andato un po' più in chiesa con sto banger che poi alla fine no se basta credere in dio ma ti piace lo ska e che cacchio e perché deve essere sempre sta rottura di palle che fa contenti i soli vecchi allora poi mi lamentatevi i Nightwish Luis un altro po' di capa ma certo aspettate che faccio sprinkle sprinkle con i film tra le vostre proposte la mia vita altro io non ho piripiri 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 dai dai fatemi mettere un po' di film che sto ancora casatissima per il per il concerto le distribuisco un po' meglio quindi appena vedo le vostre canzoni le metto un po' più in alto così non vi ascoltate solo le cose che piacciono a me anche questa e e se io dico oh voi dite e oh e oh e se io dico oh il signore dice e oh 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 il signore eh grande gesù oh io dico oh voi dite e oh e gli ha messi white i film guarda che la professione sta cosa ha messo le film brava chat bravi in chat che scrivete e ci accontentiamo di 14 manca una canzone manca una canzone nessuno vuole mettere una canzone questi sono i simbolum 7-7 li conosce signora no ma ci porti i stessi concerti ma dove dove li ha visti ah urlate che il signore non vi sente bene troppo in alto eh yusam eh yusam eh yusam fine va bene dai allora vediamo sta plest madonna un po' tanti finley quindi iniziamo da questa che bella madonna che bella che bella vedo di sentirla oggi l'avevo ancora sentita allora amici qua è tutto pronto come le uova ti faccio vedere subito cosa si fa oggi questo è il mio svapino senza nicotina ogni tanto faccio una svapatina come i bimbi col ciuccio e quello che faremo oggi sarà firmare quante più cartoline possibili qua abbiamo tre pennarelli perché c'è un avanti e dietro e buona cena Natsu ti faccio vedere subito prendo queste che le ho sparse tutte a terra pensavo in live quanti sono i pennarelli sono scarichi ma io li ho comprati ieri non ti permettere yusam sono una sfigata o li ho comprati tutti ieri uso questa canzone che la voglio sentire per sistemarle un attimo così intanto l'erican fa la playlist da 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 Della firma personale ci vediamo in fiera No Lì vi faccio il disegnino che volete Anche se non sono ancora brava A disegnare in poco tempo Purtroppo Sarà E' il mio primo firma copio Perciò sono abbastanza Emozionata ma probabilmente Anche un po' impedita all'inizio Sarò bravissima Allora questo è quello che succede Attiverò il mio telefono Che sta registrando un timelapse Così metto anche un po' di contenuto Social Datemi un secondo Ok Oddio mio Che noia Si sblocca il telefono dai Ma perché non si sblocca il telefono Qual è il problema Ho sistemato l'inquadratura Vaffanculo Ma io non capisco Perché non capisco il mio telefono Perché non capisco il mio telefono Vabbè Vaffanculo Telefono onestamente Devo rifare l'inquadratura Ma è stata precisa Allora Voilà Io mo' mi metterò a firmare Questa situazione In timelapse E questo è mia Ha vinto il telefono Allora Lo dici come se non sarò lì E infatti Ma tu puoi avere la tua firma personale Allora Questo è quello che succederà amici Io ho una scatola qui A fianco a me Ciao Taddeo Babbeo Grazie mille del Prime Ciao Fantalian Ben arrivato Ho Cinquemila cartoni da fare Quindi Io inizierò Prendendo Dei Dei pezzi Quindi farò dei piccoli Gruppettini E Quello che succederà Sarà che Mi metterò a firmare davanti Dietro A destra A sinistra Non lo so dove capita Un po' di firme saranno Col pennarello Nero Un po' di firme saranno Col pennarello bianco Così creo anche un po' di Di aspettativa Ogni tanto A volte Mi fermerò E dirò Qua devo disegnarci un culo Qua devo disegnarci Una Disegnarci chiusam Qua devo scrivere Ciao hai vinto E Alcune di queste cartoline Quindi saranno Particolari La cartolina Che ho preparato Spero vi piaccia È questa Adesso ve la faccio vedere Ehm No Ho invertito La camera Aspetta Quindi era giusta Fin dall'inizio Non ci posso credere Allora Datemi un secondo Che vorrei farvela Vedere dritta Ehm Trasforma No Perché non posso Trasformare la camera Del tavolo Perché Aspetta 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 Perché non posso Trasformarla No No Perché Non è che non la firma Di che Sai quanti cazzi Ci andava sopra Ori e Trinco Perry Grazie mille Della Resab Cinque mesi Scogi Grazie mille Della Resab Grazie Benvenuti Ben arrivati È la cartolina Del preorder Sì E vorrei sapere Perché La mia cartolina Del preorder Ehm Scusate La mia camera Del tavolo Me la dà Bloccata Come se non Potessi cambiarla Non ci posso credere Scusatemi eh Ragazzi Un attimino Ok Allora Copia Incolla Ok Ce l'ho Mia Qui Poi Questo Trasforma Ah ecco Capovolgi orizzontalmente Trasforma Capovolgi verticalmente Ok Questa è la cartolina Mi ci sono messa Tanto di impegno Praticamente A un certo punto Ho fatto Ho pensato Di fare questa cosa Ossia Non sapevo cosa segnare Ho detto Senti ma faccio Un'altra carta E questa è la carta speciale La carta del tarocco gigante Enorme Che è molto simile Alle carte normali In realtà Faccio vedere Allora Questa è la scatola Sozzissima Sozzissima Che contiene Le mie carte di prova Ehm Questa è una delle carte Ehm Questa è anche una prova Di serigrafia Nella carta Questa è la carta numero 23 In realtà Ehm È molto più grande In realtà Perché questa è soltanto Una cartolina Però contiene Una cosa Che vedrete Nelle carte Che è Questa Speciale Gloss UV Praticamente Insieme al team Di gigaciao Abbiamo trovato Dei posti precisi Dove metterla Tipo qua Potete vederla Che è sul pacchettino Che tengo in mano Io tengo in mano La scatola di arcade Ehm Su queste sono le prove di stampa Quindi qua non c'è Ma nelle carte Queste gloss Ci saranno In questo modo Qua si vedono Anche un po' meglio Come sono fatte Queste Sono praticamente invisibili Ma quando ci metti Un po' di luce Si vedono I punti in cui sono E sono in punti Specificissimi Della carta E La mia cartolina Autografata È L'illustratrice Quindi Faccio l'imitazione Della carta Del tarocco originale E Ne ho fatta una E questa sono io Sono io Si può giocare Anche con la cartolina Sì Perché se vi esce Se mentre mischiate No Se mentre mischiate Le carte Se non doveste Riconoscerla Mentre la mischiate Magari no È tipo La più grande Che trovate Deve uscirvi Dritta o rovescia Praticamente Ecco qua Se vi esce dritta Riceverai molto presto Dei ringraziamenti Sentiti da una chichibe Hai fatto un bel gesto Scrivile E ti risponderà La carta rovesciata Invece è Da qualche parte Nel mondo Una chichibe Sta piangendo felice Appunto Perché hai comprato Anche tu il mazzo Tocca taggarla Su instagram Insieme alla tua Carta preferita E puoi taggarla Con chichibo E poi c'è Un piccolo Pensierino mio Con due mutine Non ho messo il clown Qui perché era Sentimental E poi un piccolo consiglio Sapevi che i trochi Funzionano meglio Se regalati Tra le varie cose Ho studiato anche questo Se hai comprato il deck In compagnia Vi consiglio di regalarvelo A vicenda Quindi se estrete la carta Da dritta Dovete scrivermi Da rovesciata Dovete taggarmi È andata così È andata così Potrei aver preparato Quel cosiddini speciale Per il chichibe clown Ma Devo scoprire stasera Se Se riuscirò a farlo Quindi Queste sono tutte le cartoline Che saranno Nel Negli ordini online Per tutte le persone Che non riusciranno A beccarmi in fiera Quindi in qualche modo Potete avere Anche una cosina Autografata Facendo un piccolo warm up Vi direi che Se Mi metto Ad utilizzare Il Pennarello Bianco Posso firmare qua Così Se mi va Quindi una sezione La faccio tutta Con i pennarelli bianchi Ma poi asciugherai in fretta Oppure devo Arieggiare Per tutte le cartoline Mentre La versione Pennarello nero Sarà qua dietro E devo controllare Attentamente Che non Che non Slippery Con questo cuore Qua in mezzo E lo scopriremo Solo sbavando Quindi adesso Ne firmo Due o tre Normali Che succede Qua Cosa cazzo Ma Ma è rotto Ma raga Ma è nuovo L'ho comprato Ma mi è andato Il pennarello fallato Ma scusami Ma chi si è mangiato Il mio pennarello Ma come è possibile Ma non l'ho Li ho aperti adesso Li ho aperti adesso Non li ho mai usati Li ho presi la coppia Stamattina Ma come ho fatto A prenderlo rotto Ma perché Ma come è possibile Io non ci posso credere Ma solo a me Oh ma solo a me Ma come faccio A firmare col pennarello rotto Meno male che non altro Va là E adesso Ma scrive lo stesso Vediamo se No non scrive Ho rotto Il Pennarello Iniziamo con i miei pensieri Eccolo qua Fine Ho rotto il pennarello Va là Chissà chi la riceverà Ho rotto il pennarello Ma vaffanculo Guardi ho pure speso Due euro di pennarello Questa funziona Guarda come dovrebbe scrivere In linea del tutto teorica Ma che schifezza Io chiamo la polizia Questa vale tanti soldi Ho rotto il pennarello E' una cosa che succede Solo live Andatemi un secondo Faccio filtri E aumento un po' La luminosità Sì vabbè Ok Direi che Possiamo fare In questo modo Così potete vedere bene Che cosa scrivo Chiamiamo la polizia di Marica Ti sei già smerdata Mi sono già smerdata Non ci posso credere Vabbè Chi è il fortunato Ma è rotto Non so se è fortunato Però direi che Scrive molto bene Io ho una firma Molto corta Fortunatamente Quindi posso anche Andare un po' a ripetizione Secondo voi No Cos'è più carino È quella bianca Sono molto belle Entrambe Secondo me Perché qua c'è tanto spazio Il cuore E qui C'è Sono io con la mia firma Non vorrei che si Forse bianco Io vorrei farle entrambe Così Do quel tocco di brio Vorrei averla io Con la cartolina Ma fa schifo Guarda come ho scritto Ho rotto il pennarello Vediamo se Sbava Facciamo una prova Sbav Non sembrerebbe Sbavare Se faccio tipo così Vediamo È un pochino Sbava E niente Allora devo metterle Appoggiate Un po' così Poi le sistemo The white one Look nice Alternare Mi sembra di Ah Nera proprio lo spazio Ma il bianco È più luminoso Ne faccio una e una Allora Anzi no Se no ci metto Una vita intera Facciamo così Me ne giro un po' Me ne faccio Vedete Io ho Questo piccolo Mucchietto qua Così mi prendo Il tempo Anche per dopo Ne metto Un po' girate E quando sono girate Le firmo col pennello nero C'è una cosa Mi aspetto almeno 5.000 storie su Instagram Ragazzi Eh Qua bisogna Far andare I ditini Eh Mi raccomando Non voglio che Queste cartoline Restino In segreto Voglio assolutamente Vedere tutti I vostri mazzi di tarocchi In realtà Sarebbe anche Molto carino Vedere Qual è la vostra Carta preferita Insieme alla storia Sarebbe carucetto Non sbava sul cuore Trasparente Non sbava sul cuore Trasparente Ho preso un pennello Fatto app Un pennellosi Allora Io ho preso Un pennarello Fatto apposta Ok E che me l'hanno Dato rotto Non sto scherzando Sono nuovi Li ho presi alla cop Apposta per oggi Sono Terribilmente A disagio Che la sfiga Mi colpisca così Facilmente Eh Qua ci scrivo Hai vinto Vai Però non so neanche io Che cosa Ah è partita Caparezza Spargo un po' Di canzoni In giro Dei Finlay Che bello Che se non lo so Purtroppo Hai vinto un bacetto Hai vinto la ciki Per non ho visto le carte La mia preferita è il diavolo Il Jojo Stanley Che rappresenta questa carta Il bronzetto sardo È anche la mia preferita Il diavolo Volevo dire Io non ho un figlio preferito Le amo tutte Allora Hai vinto un Una messa in moto Che l'idea sia Una messa in moto Una messa in moto Che per me sia Una messa in moto Le canzoni Tutte quante Sono sulla Plest Quindi le potete trovare Immediatamente Questa quasi Questa quasi che mi ha messa in moto Ed è di caparezza Cosa dove scrive di speciale Cosa ci scrivo al prossimo Che mi prende in brutta Hai vinto un pennarello Hai vinto un pennarello Ora scrivo sì io Io avrei firmato come Allora il problema di queste firme È che se la compra Una ragazza Che ne so Un ragazzo per la propria fidanzata Che non mi segue su instagram Prende il mazzo E legge Sio Rimane un po' confusa Una firma la curolili Ma certo Ma certo Pensavo di aver preso Guarda cichibe Firmato curolili Ti immagini Ho preso la cartolina firmata La cichibe Mai firmata la curolili Quantino Su una devi scrivere raga Ehm Non so se scriverci raga Qualcosa che può apprezzare chiunque Anche un bambino Tipo ho rotto il pennarello E fa molto ridere Perché ti Sai di esserti beccato Il momento da sfigata Che sono Quale io sono Ma Per esempio Un bacetto si può fare Un piccolo culetto si può fare Un piccolo gattino Cichibe Sio No non possiamo scrivere Grazie minchia Perché Ehm Anche Anche i bambini Comprano Da giga ciao Non posso proprio Questa è la centesima firma Oddio Non le ho contate Non so con che Veloci Sto andando Allora praticamente Ehm Secondo me sto andando un po' più lenta Perché sono live Perché ho poco spazio Su questa scrivania Appena mi sposo sull'altra Mi sa che inizio a buttarle a casa E vado molto più veloce Ok Sono arrivate le nere Quindi devo filmare Una cosa bianca adesso Una messa in moto Questa non è la centesima firma Ci sta Congratulazioni Sono la centesima firma E lo scrivo in tre Cartoline diverse Beh in questa ci faccio Una faccetta così Col tre Ma sai che questa è Questo penale è molto Molto bello Scorre benissimo Quasi lo preferisco Mi sento molto più veloce Renata anche Questo si chiama scam Chi è che ha messo Questa cacchio di canzone Quindi faccio i cuori Sei il numero 50 Vai Scorre se faccio un culettino Voglio questa Questa carta non è davvero L'illustratrice Io Ah ma questa è Fafina Sad Freddy Scusate che era Non ti becchi la La shiny No questa è la messa Gabritos Questa è quella che mi ha fatto Sentire Gabritos Madonna Questo ho fatto Un acciso Per fancy Nel voto Tra musica La tonta Sì Bello che le fai Ogni tanto diverse È vero Ciao Questa ci scrivo Ciao Non tutte Solo alcune Io non la scriverei Poggers Poggers Fatto Poi Dai che figura di merda Vado a farmi fare Cos'altro scrivo Questa asciuga Anche molto prima Quindi Posso anche farle Molto più velocemente Così Oh Shit No Si smerdano queste Fuck Ho scoperto una cosa nuova Merda 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 No Devo lasciarle asciugare Molto di più queste No no Tranquilli Si toglie con la mano Non è un problema Devo pensare Una soluzione Però Queste sono salve Sono smerdata di bianco No ma capita Capita ragazzi L'ho fatto anche Con i poster del twitchcon A volte Devi fare delle prove Con la Con la carta Voilà Serve un ventilatorino Sospeso Si si Sono tutte cose Che scopri con la carta Cioè non è che ho firmato Aspettate Non è che faccio More esperta Non ho firmato Tutte queste grandi cose Nella vita Però è successo anche Con le Con i poster del twitchcon L'importante è Essersene accorti adesso Devo Semplicemente Capire Vedi In realtà Guarda Non ho aspettato Che si asciugassero Perché mo ci passo Ci passo il dito Non succede niente Sono stata Infrittolosa Vediamo se riesco a sistemare Ho un'idea Ho un'idea Datemi un secondino Mo sistemo tutto Ma le hai tutte Le devo rifare No questa si è salvata Poi Famme le mettere da parte Queste dopo le rifaccio Le Gli do una pulita Che tanto Si possono pulire Subito Questa si è salvata Io Si è salvata Vuol dire che posso Che devo rifare Quella numero 100 Ragazzi Ok Devo farla col Ventilatorino E nulla Le più belle Sono state devastate E vabbè Le rifaccio Che problema c'è Ne abbiamo ancora 5000 Da fare E purtroppo Capita Non posso Darle difettate Anche se Potrebbe essere Un easter egg Carino Non le posso dare Difettate Devo solo farle asciugare Un po' di più La chat Mi suggerisce Le frasi No perché Se la compra Doviamo pensare A qualcosa Che farebbe Contento Anche La mamma Di un bambino Cioè Prendi un fazzoletto Inbevuto Dove lo togli Senza rovinare Troppo la carta Si 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 Dopo le sistemo Tutte Solo per farle Questa cosa In live Non sono contate Sono contate Dovrò sistemarle Al massimo Li pulisco E poi La rifaccio Dietro Devo disegnare Un culettino Anche qua E poi in realtà Dovrei stare attenta Anche con questa Non sbavarle Che mi serve Molto più spazio Sulla scrivania Ma se riesco A ricavarlo Spero non sbavi Speriamo Che non sbavi Le ultime parole Delle illustratrice Cicchibe Prima di sbavare Ogni singola Carta Che si trovava Sulla sua scrivania Che doveva Consegnare In tempo Se ti avvicini Al tavolo Li appoggi Li Un po' lontano Potrei Perché Se ne faccio Un pacchetto Faccio tipo I piattini Del sushi Poi posso Metterli in blocco Nello scatolonico Qua a fianco Perché ho due scatole Adesso Una per Da cui prenderlo E una da cui mettere Vorrei provare A fare Una situazione Dove Me le metto Tipo tutte in fila Quindi faccio Un po' di test Perché Così le lascio asciugare E appena sono asciutte Ci faccio la pila Da mettere via Va bene Dai Un limite ai 5k Un super limite Di 100 pezzi Il passo è breve Oh no Chi vuole La super super Limited Che ha Le cartoline Sminchiate In live E' già arrivata La tendinite No E' arrivato Il primo errore Da cui abbiamo Imparato una grande Lezione Ossia Che Le freddure Di Peratuns Sono veramente Divertanti Io Grazie mille Me le appendo Ma Kuni Ma a te Faccio la dedica Anche perché Io purtroppo Non ho trovato Abbastanza tempo In questi giorni Per esercitarmi A fare Quella cosa Fichissima Che fa zero calcare Ossia Che si mette A disegnare Le cose Davanti a tutti Io non ho mai Disegnato niente Che non fossero Le famose patate Questo c'è un gatto Le famose patate Che ho fatto in un minuto Da Easy Bank Quindi io Non so se Chi si ferma Il mio firma copia Sa che io faccio Una firma Un bacetto O una cosa Molto speciale Che mi sto portando Molto Molto speciale Però non Non so disegnare Rapidamente Io Non so se anche Pera Ha un Comfort character Cioè Dovrei trovare qualcosa Che continua a disegnare A tutti Vai di Stickman Ma non posso Hai di Stickman Sono l'illustratrice Chidina del tutto Teorica Ah aspetta Potrei Metterle così Così Mi faccio spazio Intanto asciugano E ho finito La schia Tocca fare Ciculi patata E E Sono tanti Oddio Dal vivo no Dal vivo potrei Effettivamente Un bel Layton Giochiamo a solitario Eh ma Layton Non è il mio brand Layton è il brand Di Nintendo Questa la faccio Speciale E questo Lo so fare Questo lo so fare Molto velocemente Lo ho designato A tante 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 persone Però una volta Ogni tanto Penso che sia divertente Se lo faccio A tutti Nintendo Mi denuncia Nintendo Non è ancora Il mio brand Bravissimo Was that Stance Punks Urban Fruit You mean The song before Yes Yes You guessed it Correct First try Nice Il mio speciale This is a moment When you can Request songs So this is A song from One of you In the chat In uno Disegno Cic Mi dai Un cic Da disegnare Kuni Facciamo Un crossover Nelle mie Cartoline Fa molto ridere Carino Perché Metto qua sotto Supporò che mi sbavano tutte Quelle nere Se sbavo Quelle nere Non posso Ok Allora Io ora faccio questo Cic Io ora faccio questo Cic Kuni Quello che vogliamo È che questo È che questa cartolina Arrivi a te Ce la possiamo fare È una su cinquemila Ce la puoi fare Secondo me si può fare Si può fare Vai 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 Io ci credo Ma è perfetto Grazie Kuni si è inventata La mascotte Più Facilmente disegnabile Ed emotabile E Fottutamente perfetta Del mondo Io l'ho sempre detto Che hai L'emoticon perfetta E la mascotte perfetta Robby È più facile Trovare uno shiny Ti dico questo Usa il phon Per asciugare E come mi sentite Poi in live Riesci a fare una Con un piccolo Character di adventure time Tipo E nip tic Grazie 58 mesi Mancano solo 30 mesi 88 mesi Ci si rivede Da 2 anni e mezzo Chiamo Emiliano Per analitare Sulle carte Ok Nico Voodoo Grazie mille Del secondo mese Di subscribe Anche uno Con Steven Universe Eh queste cose Vedi non le so fare Cioè potrei farle Con un telefono Davanti Però Poi le persone In chat Diventano 4500 Io non ne faccio Neanche una E poi si arrabbiano Non lo so Devo vedere se riesco a A disegnare Bene Velocemente Mi dovrò esercitare Verbo imperfetto Verbo imperfetto E liptik Grazie mille Di aver regalato Una sub A Luis Mikawa Troppo gentile Queste Sono in riunione Bello Sono in live Anch'io spero Mi capiti uno Di quelli Con gli easter egg Perché potrei Averlo tirata Pure io Che sta Cogliettina Ora Faccio così Vabbè Secondo me Meno 100 Le ho già fatte 100 100 ci siamo Quanto me ne mancano Come ci sono alcuni Illustratori Che ti ritrovi Che ai ritrovati Fanno delle speed art Assurde Ci credo Assolutamente E quelli sono Anni 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 Di esperienza Ho un'idea Ho un'idea Potrei avere Un ventilatorino Silenzioso Ok Sto commentando Il pranzing Non è vero Ditemi se da fastidio Questo Si sente qualcosa Mi sono ricordata Che ho un piccolo Fon Così dovrebbe essere Tutto molto più veloce 100 100 Una la faccio firmare Da Emiliano Allora Non posso fare queste cose Che poi Non hanno scam Sente proprio Malapena Perfetto Allora Sarò questo Ci siamo Posso Fare una pila Vediamo se queste Si sono Queste sono Salve Meraviglioso Meraviglioso La prima è stata Quella del pennarello Rotto E per sempre Ce la ricorderemo Almeno una Facina di lato Allora Quelle bianche Adesso Troveremo il modo Neanche di far asciugare Quelle Direi che sono Perfette Allora Adesso mi date Solo un secondino Che le raccolgo E poi Le metto Via Forse Forse avrei dovuto Farmi consigliare Dalle persone Più brave Di me Tipo Sio Che tipo Di pennarello Si usa Di solito In questi Casi Non prenderne Una coppia Hanno tutta la mia invidia Io sono del team Che finita la prima arte È già cambiata L'era geologica Eh Già Già Se dovesse Sporcarsi Cosa si sporcherebbe No no Non si sporca Quelle bianche Sono 30 mila volte Più fighe Eh Se non si sbavano Sì Ma infatti adesso Abbiamo fatto quelle nere Adesso si cambia Si fanno anche Quelle bianche Faccio un po' e un po' È che ho lasciato Lo spazietto Capito Ho lasciato lo spazietto Per la piccola firma Che sta la differenza Secondo me hanno Il loro Il loro Perché Tutte e due Perché Qui È una firma Bianca Sul nero Ed è stupenda Ma qui Puoi vedere L'illustrazione intera Senza il disegno Quindi non hai Il disegno coperto Secondo me In entrambi i casi C'è qualcosa di speciale Quella penna Deve andare In una limited Uno si impegna Tanto per delle carte E poi si becca Sono in riunione 34 euro E poi si becca Sono in riunione Ma chi se ne frega Ma guarda te Dai E 50 Sono andate Un penna All'oro Non ce l'hai a casa Mi sa di no Puffo Grazie Dei 5 abbonamenti Regalo Grazie Grazie Puffo No Questa è troppo lunga Ma dov'è il Wow Ah ecco Grazie mille Puffo È arrivato Puffo Ciao Un saluto Purtroppo Devo andare A lavoro Un salutone Gigante Enorme Grazie mille Puffo Come stai Beside the fact Che devi andare a lavoro Ovviamente Sono firmata In pausa caffè Ci sto Guardo Al volissimo Al volo Volissimo Se ho un pennarello Oro Così faccio Tre versioni Di firme Tanto ci sto mettendo Veramente Per ora poco Ma vediamo Quanto ci metto In questa scatola Invece ci metto Quelle che finisco Sul back Al cui un oro Invece che nero Poteva starcela grande Eh ma loro Non lo vendono Penso che lo vendano Sai Cioè Non l'ho ancora visto In supermercati Quella oro Magari me la porto Ai meet and greet Dal vivo Te lo chiedo Una cosa Improvata A sto giro Dimmi dimmi Mi dica Mi dica Io intanto Faccio in modo Che Che queste Non si sbavino Riproviamo Non sbavate Poggiamole qua Alcuni neri Alcuni bianchi Alcuni in lorro Madonna Non vedo l'ora Di firmarle I miei amici Altri in argento Che sta benissimo Sulla parte nera Allora Facciamo così We have a deal Se ci vediamo Dal vivo Ve la firmo in oro In argento Ma le carte Sono firmate Front e retro No Se no Mi ammazzo Se no Mi ammazzo Di lavoro Quindi Ho deciso Di fare Solo una Delle Due Eh non si può dire Su twitch Non si può dire Troppo lavoro Non vedo l'ora Che arrivi Ah Te le sto preparando Arriverà tutto Arriverà tutto Se non si sbava Nel frattempo Questa è Ciki Cib Perfetto Sbaglio dalla mia stessa firma Vediamo chi se la becca Quella Questa ciki B Questa 3i Questa la scrivo con l'h Ciki B Perfetto Ciki Una firma La r ciki Oh mio dio Si Solo questa La firma La r ciki Vuoi vedere come faccio la r Ecco qua Io faccio la r In un modo stranissimo Questa è solo questa r ciki Basta Non ne firmo altre E' uno scarabocchio Non è uno scarabocchio E' bellissimo Ma che è Ma come vi permettete Aspettate Vi faccio vedere Non posso firmare tutte Le r ciki Fatemelo fare in uno E' un r incursivo Zitti Sono iniziati Fin lei Fatemi trovare Un fogliettino Qualcosa Vi faccio vedere Come faccio la r Pronti? Stavolta La mano è più veloce Dell'occhio Pronti? No Ho sbagliato Pronti? E' questo Però il pennello è grosso Quindi è Cioè non è Ok non è un granché Però perché il pennello è molto grosso Capito? Ho mai visto quella r Ma come la faccio io? Si vedesse sarebbe fighissimo Guardate Teo Scrivo di merda Va bene? Scrivo veramente di merda Meno male che ho un nome cortissimo Solo un'ora fa E lascerò che i miei pensieri ti tormentino Diciamo che è una fortuna che ti sia venuta il primo colpo sulla carta Ciao Chiara C'è un po' di confusione in questa r Ma se la faccio normale non è noiosa E quando non ti sveglierai Aspetterò Guarderò le nuvole Vai Nella prossima faccio un disegno Ho deciso Sono fuori di testa Impazzisco Ti assomiglia un po' di più Sembra impossibile Ma non riesco a stare senza te Do un ame one Oh no I can't It's too much deep So Someone wouldn't get it Ci disegno il Napoli? Luna Chan Eh ma non si firma bene con la penna Dai solo questa con la penna Questa è un po' fancy Questa è la firma dell'F24 invece Con la penna piccola Se disegni il Napoli Mi tocca sperare di non trovarla No la penna su un po' di Sulla carta a volte è bella Ok lasciamo giocare questi Ricordiamo che non ho scritto Cichibe Ragazzi mi sto divertendo troppo Voglio Alla millesima Impazzisco e Ci scrivo Totti Davanti cichibe Dietro Totti Ma Tolo Ora lo faccio Totti Se vorrai Sono salve Sono salve Sono asciutte Sono asciutte Guarda Teo Che devo fare il bricolage Per salvare le cartoline Ma questa canzone Ciao Xella I Little Big Che è nuova E noi ci vuole una bella Zampina di Neon Eh vabbè Little Big Basta Banger Maledetti Che palle che non li ho visti live Che era sold out E con te Con te la penna Non sbavi No no non sbava Con la penna È troppo poco inchiostro Questa dietro Ah questa è una stampa shiny Ma salutano e basta In questa canzone Allora qua ci scrivo Ciao Qua ci scrivo Hola Bellissima Xaviglia Passo stranamente in questa live Ogni volta riesco a capire Come si è possibile Trovi al minimo Un mille specfisti Ah carine grazie Sei molto molto gentile Io in realtà ho una teoria E la teoria è che Sono stata molto scostante Io con le live Purtroppo ultimamente Per motivi vari Legati a Il lavoro che vedete qua Delle carte Tutti i tarocchi che ho fatto Le ho fatte in gran segreto Quest'anno E Questi sono i film E quindi I veri streamer Quelli bravi Fanno tante live Ne mancano poche Cioè Sono molto più affidabili Di me Quello Quello è uno dei motivi Per cui si hanno tanti spettatori E anche che lo streamer Diventa affidabile Con l'orario Molto preciso Le salta pochissime E su quello Sono mancante Non so altre Lingue Schrivo bonjour Fine Oltre a Fuori dall'Europa Diventa Appropriazione Culturale Quindi non posso Se un estremone Vuole tu Non è un problema Se ci sono meno live Io penso di aver trovato Il giusto equilibrio Voglio che questo Non finisca Minchia Marchiate a fuoco Ste canzoni Nel corpo Buon appetito Buon appetito Questo buona serata E quello Buon appetito Però buon appetito Buon appetito E gravissimo Scrivo Buon appetito Se vi capita Io spero Quello in giappone In giapponese Xabilia Lo scrivo in giapponese E' troppo piccolo Non riesco a fare i kanji Buon appetito Hai mangiato? Uno posso fare Oh god Io non so cosa darei Io vorrei avere voce Per cantare le canzoni Di stasera Buon appetito E' bellissimo Ricordati di bere Madonna Il Lando Anche Uvu Mi sento a casa E non voglio Andar via da qui Vai Non si capisce Cosa ho scritto Ricordati di Sto male Ricordati Brrrr Madonna Questo prende La cartola E fa Ricordati Ma Questa è pazza Eh si Ricordati Brrrr Che ridere Madonna Non vedo l'ora Che abbia Cartoline vi giuro Mi spacco da ridere Tra un po' Prendo coraggio Mi faccio due spritz E faccio lo stemma del Napoli E vediamo chi se la becca Uvu è molto carina Comunque Ricordati Bluh 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 Pure io non vedo l'ora Voglio fare una prova Ragazzi Voglio fare un tentativo Qualcosa che non è mai stato fatto Nella storia dei tentativi Di queste Cartoline Perché ho iniziato solo mezz'ora fa E sto ancora imparando Ma Ma Dopo aver fatto Alcune varie faccine No Tipo ovo Oppure Uvu Proverò a fare una cosa pazza Assolutamente pazza Firmerò Col pennarello bianco Questa E col pennarello nero Un'altra Che non si vedrà niente Vediamo È molto carina È quella shiny Forse Forse un paio Le voglio fare shiny Grazie La mi fermo La C E poi La K Tutto quanto Ma dove e quando farai Meet and Greet Xabilia Allora Di sicuro io faccio sempre Un meet and greet Nel weekend Spero di farne il più possibile Quest'anno Ma di base I primi I primissimi Meet and greet Saranno venerdì Sabato e domenica Allo stand Gigaciao di Luca Comics Penso già di sapere gli orari Perché Non ho tanti momenti liberi Ho l'ora di pranzo Dalla trasmissione Perché io devo fare La trasmissione al digital Perciò C'è C'è Quelle tre ore Basta Quindi ti direi Venerdì Sabato e domenica Conta Tra le 13 E le 16 Ho il meet and greet Adesso devo capire bene L'orario preciso E sarò allo stand Gigaciao Ti prendi il numerino E così È la sicurezza Di trovarmi E ti metti in fila Uno ogni 4096 Per la precisione Shiny era Uno ogni 4000 E pensa Sono 5000 Ste cartoline Quindi posso fare Solo due shiny E basta Miau Ok Dunque Come è fatto Lo stemma del Napoli Dai Momento di tirare Una ditata Ok Benissimo Dai Si può fuori Non ricordo Quando dovrebbe arrivare Il cartone Pensi di mettere Una zocca a spuco Su una Visto comunque È corto No 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 Non arrivano Arrivano sicuramente Dopo Luca Questo L'abbiamo Scritto più volte Perché Tutti quelli Che si occuperanno Dell'assistenza clienti Tutte le persone Che mettete caso Che non vi arriva Il pacco Perché c'è stato Un problema Con il corriere Chiedete il tracking Se sono tutti A Luca Comics Non vi può rispondere Nessuno ragazzi Abbiamo Preso questa decisione Per il bene Della Dell'organizzazione Del tutto In modo Che ci sia Che sia Più smooth Possibile Ci crediamo Molto Nella Questa cosa La mille Sarebbe Che qualcosa Di riconoscibile Allora L'unico modo Per fare Questa cosa È scriverla Adesso Devo scrivere Questa è la cartolina Numero 100 Le scrivo adesso E poi non le scrivo mai più Ok Mille Allora Tipo Qua scrivo Cartolina numero 200 300 400 500 Se abbiamo Il cromomuleto Posità Diventa Una Su 2048 Shiny Avete il cromomuleto Difficile averlo comandato Pure io Orgoglioso Di Dagi E' molto bello Che mi date Suggerimenti Che siamo qua Farò tutti insieme Questa è la mille Sì Beh Se le ciro adesso Quella mille E non lo scrivo mai più Sarà il numero mille No no Non posso Casseggiare così tanto Usam Però posso fare Posso fare così Poi Solo voi Saprete che Non è esattamente Questo La verità Anche se secondo me Un centinaio Le ho Le ho Già finite No Ok E si erano Sovrapposte You would be A great Another Republican In El Salvador Oh You think Thank you What What does Another Exactly do Like What is The routine Of a notary Devi filmarle Cosa Spolveri E Perché ci devo mettere Ma E' vero Devo firmare Numero 200 Ruggero dei Timini Mi mette In una condizione Di riflessione Ammetto che Non capisco Molto bene Ruggero dei Timini Come osate Mettere la canzone Degli ex doppiatori Di Asbino Hotel Fatemi spolverare Molta riflessione A Milano fare mai eventi Serie Assolutamente Games Week È il secondo Evento Di quest'anno Quest'anno Ho saltato Tutte le fiere Dovrei fare Luca Tutti i giorni Ma firma copie Solo venerdì Siamo di domenica Games Week Assolutamente Sì c'è lo stand Di giga ciao Stiamo preparando Qualcosa di incredibile Quindi Games Week Vabbè Ma io ci vorrei Dieci anni La Games Week Quindi questo è il primo anno Faccio un film a copie La Games Week E Forse ce ne scappa Un altro a Milano Però vi farò sapere La numero otto Ma certo Fabius We miss you Just the same Don't be sad We spot the journey Kind of content People need It's a lot of signing Oh Right Like a lawyer Don Pablo Thank you And goodbye Good night Good night Thank you And good night Madonna Ti immagini Quello che si becca La cartolina numero otto E pensa Mazza oh Ha scritto il numero Su ogni cartolina Che buona Che bomba E invece non è Cacchio vero Non è vero niente Però Sei portato a crederlo In una ci scrivo 17 Così la persona Tipo wow Che figata Il numero 17 Più o meno Si Cioè se non lo riscrivo Da nessuna parte Hai la cartolina numero 17 Però lo scrivo Solo ogni tanto A uno Dove si scrive Let's go Secondo me È che non so Come si scrive Ciao Vector Ti fanno tanti complimenti Per Per la live Moderatori cari Uno scrivi Mille uno Invece di mille No che fastidio Un numero 69 Nice La cinquemile uno A dar fastidio A tutti noi Che sappiamo Che non è vero No non posso Non posso Oh grazie Ray che mi fa Lo spelling Invece di 57 Non vedo Nel mio pensiero Luca Ti aspetto Sono da giga Ciao Second time Grand Team Con una grandissima Direzione Se posso Puoi puoi Tra l'altro Mi dicono Che fate spaccare Da ridere Nel gruppo Dei moderatori Che ci sono cose Che non si possono Leggere Capcia Ma no Poi pensavo Che non so scrivere Ditemi un numero Il primo numero Che mi dite Lo scrivo Il primo numero Che compare Lo scrivo Giuro 669 E' un problema 16 Vai Confondo le acque Inizio a scrivere Numeri a caso 38 32 No 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 Fra un po' Vi richiedo i numeri E il primo Che mi scrivo Un numero Scrivo quello Cioè Guarda qua Sembra veramente Che sto facendo Le cartoline numerate Ma se non si parlano Le persone fra di loro Non lo scopriranno mai Io voglio sentire Mondo marcio I Finlay Subito Subito Lo voglio sentire Vai L'ultima canzone Dopo usa 73 Non pervenire Non pervenire Il Don Cooper Scriverà Zucca E dovrà capitare A 151g Mi piace Scrivere Uvv E' facilissimo La mia rabbia in questa pagina Non potrà Non potrà esistere Non fare il timelapse Aspetta Posso interromperlo Sennò mi si brucia Sparcata L'unghia No non posso numerarle tutte Numero 1 Però una si Questa Ecco qua Numero 1 Non è la prima Ma è l'unica Con scritto numero 1 Chi sarà il fortunato? Spero uno di voi Questo messaggio Non si leggerà Com'è? Eh no Ormai l'ho L'ho chiusa Ma perché continuo a dividere Le cartoline in più blocchi? E' la numero 1 Più o meno Prima di buttare la chiave Ciao mamma Sono il terminato della cichibe Diceva Chiara che Nonostante io abbia avuto Un'adolescenza Veramente di merda Io vi giuro Che viverla con TRL E' qualcosa che i giovani di adesso Non possono avere E' stato incredibile Cioè Era un modo per Ritrovare gli amici Nel momento in cui Non c'era internet Quindi Non potevi davvero 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 Trovare il tuo gruppo di appartenenza Dovevi Più o meno Avevi due scelte O omologarti alla massa Oppure Essere quello strano E non condividere le tue passioni Con nessuno Non c'era molto da fare Pochissimi 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 Erano gli scolati Che riuscivano a Termosifoni Ho sbavato Ma chi ha messo Ricrollato Dai Ma avete ricrollato Tutti i termosifoni Ma chi ha messo Ricrollo Su Spotify Non ci posso credere Ma sono stati ricrollati tutti Ma sono stati ricrollati tutti Pure io Ma Lerican Ci hai ricrollato Ciao amici Sto firmando le mie Cartoline Devo firmare 5.000 di queste Never gonna give you up Never gonna let you down Non sbagliamo il testo Ciao amici Vi spiego al volo Che cosa sto facendo Pratico Oh Questa ha una glossatura doppia Questa è la vera shiny Questa è la vera shiny Questa ha un doppio gloss Ne ho due Ne ho una sopra l'altra Guardate lì Doppio gloss No Questa ha vinto Chi si becca questa cartolina Si becca quella shiny Una grossatura Praticamente sto facendo questo Signori termosifoni Della chat E termosifoni Praticamente Se fate punto esclamativo carte Scoprite che io Ho creato un pozzo di tarocchi E le sto vendendo con giga Ciao Sono i tarocchi di videogiochi Ci sono un sacco di citazioni videoludiche Perché ogni tarocco maggiore È un È un genere videoludico Quindi ci sono i platform Ci sono I multiplayer online I source like I rhythmic game Ognuno dei tarocchi Ha un motivo per essere associato A un genere De pieno di citazioni No Siccome Gli ordini online Sono di gente Che in teoria Non può venire alle fiere A farseli autografare Giga Ciao Mi ha dato Le cartoline da autografare Sono 5.000 Perché Sono 5.000 Le copie che avrete Da online Quindi Già 1.000 sono andate Perciò correte E La cartolina Ho deciso di farla Come una carta di tarocchi Quindi questa non è La dimensione reale Di una delle mie carte Non le prendo in questo momento Perché sennò Le sporco col pennarello Però La cartolina di ringraziamento E ha una glossatura Cioè È la cosa che è più carina Che hanno fatto È che hanno messo È che hanno messo la glossatura Qui sul pacchettino Che ho in mano Faccio un piccolo zoom Assurdo Allora Questo è il disegno Questo è il packaging Faccio così Questo è il packaging originale È fatto così Se cliccate il Punto esclamativo Carte Vi esce il link Ed è vero Questo sono io E Se lo metto così Vedete che C'è una piccola glossatura Così come sopra Che c'è Il gloss sul cuore Adesso Vi chiedo scusa Ma Non so Bene dove sono le fonti luce E qui Su illustratrice Solo Che dicevamo Le sto firmando Tutte un po' diverse Tipo In uno ho scritto La numero 500 La numero 300 La numero 8 Quindi a certo punto Vi chiedo un numero Lo scriverò In alcune Mi state facendo scrivere Forza Napoli Non vorrei firmarne una Totti Però Mi piacerebbe tantissimo E Massimo Dico Senti Luca Questa Mettila nel pacchetto Di Usam Enderkill Io avrei una Di queste cartoline Sì Perché Invece Se non l'avete ordinata online Sono tutte Allo stand di Giga Ciao Dal 31 ottobre Quindi Ogni volta Che Giga Ciao Sarà in fiera Dal 31 ottobre Quindi Locale Esclusiva Per ora Da lì in poi Anche se non ci sarò io Tipo Qualsiasi fiera C'è Giga Ciao Ci saranno anche le carte 100% Dovrò ottenerne una Ce ne sono state 500 limited Che erano una versione rossa Che però è andata sold out Subito Il primo giorno In 5 ore Quindi Spero di averne una anche io C'erano due variant Fatte da CEO Troppo belle Non posso Allora Non posso farti Il cicchibe ufo Sulla cartolina Perché poi Le danno a caso Non posso scrivere Forza Roma E poi La cartolina Se la becca Un ragazzino Di 8 anni Che dice Ma perché Questa è una rincoglionina Non posso Per fare le dediche Con scritto Forza Roma Dovete venire A Luca Comics Mi fate far figura di merda Posso scrivere 69 nice E poi Una madre di famiglia Che regala Ai suoi figli Posso disegnare Gattini e Pikachu Però In pochissime Sto disegnando Un Pikachu Poi se ti fa la Lazio Immagina Immagina Noi ti fiamo Navoli Tiè Totti alert Che avete fatto In live E termosi fa un c Al di nato La limite Appena uscita la pre vendita Minchia Ender Chi l'ha tentato A portarla Che quella La rubano Non ce l'ha nessuno Quella versione Ce l'hanno in 500 Ma Se sono arrivati I bagarini Come i biglietti Dei Coldplay Non le vedete In giro Abbastanza flattering Se i bagarini Si sono finiti Le mie limited Ma un po' Particolare Devo ammettere Memis Memis Posso dire Che cosa mi hai scritto Su Instagram Spepetinas Ti scrivo Tutto quello che puoi Dal vivo Ok Allora Prendo il telefono E vi dico Che cosa mi ha scritto Memis Mentre faccio Un bel twistone Voilà Questa la firmo bianca Non ve l'aspettavate Invece faccio questo Ogni tanto faccio le shiny E firmo così Col pennello bianco davanti Eh Allora Memis Memis Poeta di altri tempi Prende Instagram E mi scrive Le seguenti parole Sì Vabbè Roby Io vorrei Conservare Questa carta Nella Fì Va bene così Va bene così Si è girata la cam? Beh Ah ecco No Ma Si è girata la cam? Perché si è girata la cam? Ok Quando si è girata la cam? Questa carta è presente anche nelle prime varianti prese due minuti dopo che i tarocchi sono comparsi usi di giga ciao Vero? Sì 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 100% Non so come ha fatto a girarsi la cam però l'ho rigirata Le cartoline sono su tutte le coppie online O almeno Le prime 5000 Se dovremmo ristamparle Mi inventerò magari un'altra cartolina Non lo so No Bafio troppo Ho toccato qualcosa mentre prendevo il telefono Eh Sì Memis Mi ha scritto cose molto speciali Che mi ricorderò per sempre Morenix Come stai? Non ho letto cosa hanno fatto i termos Citando montale Ma con l'accento sulla Con l'accento sulla O Volevo dire sulla O Giochi di merda Horror non horror Cioè Io ho scoperto che c'è un nuovo Among Us like Ma forse su Roblox Tu il polso Ah easy è una crema Diciamo che sto in live altri 25 minuti Così faccio due ore di live precise Dopodiché vado a mangiare E quando ho finito di mangiare Ricomincio e le faccio tutte Magari mi sposto sulla scrivania Dove Non streammo Di là Così almeno Ho un po' più di spazio Perché ho appena scoperto Che questo pennarello È fighissimo Ma devo lasciare un po' asciugare Perché se no Sbava È il bello di avere Comunque la firma Fatta bene È Comunque un oggettino Molto delicato Hanno cringiato Perfetto Perfetto Qual è il miglior gioco horror In circolazione al momento Voi lo sapete Hai dimenticato il cuore Su quella prima No 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 L'ho rimesso Me ne ho accorta Big serious Ah vedi È ripreso colore Guarda Dopo un po' si scarica E devo dargli una piccola premuta E mette molto più pigmento Silent Hill 2 Silent Hill 2 Oh shit No 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 Vabbè ho capito È il momento di prendere Il salviettino E mi è scappata Mi è scappata E vabbè E vabbè Roberta Va bene lo stesso Va bene lo stesso Minchia raga Io ho visto firme Che erano una X Ora non per vantarmi Ma E non bastano mesi Non bastano anni Non bastano Scrivo a Lucky Su quella scagacciata Scagacciata È proprio cacca di piccione Questo pennarello È una limited edition Memis Questa dovete la infileresti Dimmi un po' Di incredibili storie Ce ne sono tante Ma meglio di noi Non c'è niente Prendo la salviettina piccola Arrivo subito Ma proprio Guardate Sono già arrivata Ciao Paterino piccolo Seguppare la salviettina piccola C'è niente Comebird a noi Ma io mi todo Ma io mi todo Ma io micono Ecco se il gatto adesso sale sulla scrivania È un problemone Ho fatto la macchia Eh no perché copro la scritta Basta Devo provarlo Silent Hill Cavolo Rai dei termos ci siete ancora? Vi devo far vedere una cosa Persone arrivate dai termos Perché se non ce ne sono non la faccio rivedere È inutile Meglio di noi non c'è niente Eh guarda come ho pulito Sì Eccomi Roberta dici pure Ma come Alessia E non bastano mesi Non bastano anni Non basta una vita con te Ma è bastato soltanto un secondo per capire che D'incredibili storie Ce ne sono tante Meglio di noi Non c'è niente Ok Qua dove ho firmato Qua non ho ancora firmato Tutti i panni stesi Ok Il numero 8 è rarissimo Meglio di noi Non c'è niente Meglio di noi Meglio di noi Non c'è niente Voilà Adesso spolvero Col ventilatore Oh un po' d'aria No No Non cadere Non cadere La numero 7 La regali a Sio È vero Non posso firmarne più di 7 Sono le regole Questa è quella che ho lavato Vero Sì Allora devo Mettarla qua Dai Ne ho toccata una Mi è rimasta in mano la firma Ma quanto ci mettono quelle bianche ad asciugare Madonna Guarda Questa la lascio così perché c'è il mio dito C'è il mio dito Non basta smerdarti Ma ragazzi ma veramente pensavate che non mi fossi Che non mi sarei smerdata Guardate le mie mani Eh davanti sarà più lucido Ok Quelle nere almeno si saranno asciugate Ma cosa hai scritto Memis Cosa scrivi Cosa scrive Vai Fa come me Metti No Memis Non la posso leggere questa cosa C'è mia mamma che entra in live ogni tanto Se entra adesso mia mamma e mio papà Io non sono più invitata alle cene di famiglia Eh Ma che scrive Ma che scrive Pensavo che a una certa avresti smesso di smerdarti Sei un cucciolino sei Ciao Bubi No 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 Devono smettere di toccarsi queste carte Ti giuro Basta Devono stare separate tra di loro Sennò faccio un incidente E muore solo il conducente Te lo giuro Tanto il gatto Fa come se fosse a casa Pupo hai la coda? Eh? Hai la coda Pupo? Che mi lasci le porte aperte? Vostra madre ve lo dice mai Hai la coda? Ah grazie Lerigan No no Non si vedranno mai Ah effettivamente la coda L'incredibile storie C'è messo A te diceva nato in barca Che vuol dire nato in barca? Nel senso che eri No che vuol dire nato in barca? It's a night wish For Luis I remember this request I know it's you Con lo svoppino L'avevo anch'io buonissimo Vero? Io ogni tanto C'è uno tipo giuccio Fine Vapore acqueo E coltivamente Sono molto stressata E mi aiuta molto Questa cosa Oye che esquivo Vai scritto Che esquive Neon Che non sa cos'è una coda No Vector No Ricordati di Brrrr Mi fa ancora più ridere E non so scrivere Ho un'idea Ho un'idea Un'idea incredibile Ho l'idea più incredibile Della storia Ho l'idea più incredibile Della storia Lo vedete questo pennarello piccolo Con questo pennarello piccolo Di precisione Farò la firma più piccola Del mondo Però la riempio di stelline Quindi questa firma È piccolissima E la prossima La prossima firma È enorme Guardate la differenza Fra una firma normale E una firma piccola Ne ho viste di più piccole E no perché Questo livello di firma È ancora non scam Uno non si penta Di aver preso La cartellina autografata Da una rincoglionita Quale io mi ritengo Ma la prossima firma Mamma mia La faccio grandissima Eh questa firma è enorme Ho deciso Voilà Guarda i due gender Hello Vuoi vedere una cosa Aspetta che basso un attimo Ah questa canzone dei Nightwish Dura 5-10 minuti Va bene lì Grazie Adesso mangio Sei troppo gentile Vuoi vedere una cosa Ho fatto la firma enorme La firma piccolissima E su alcuno ho scritto Tipo la numero 8 E la numero 5-1000 Però se non lo riscrivo più È giusto Certo In linea teorica In teoria In teoria In uno ho scritto Hai vinto La firma piccolissima Quante te ne mancano? Ho fatto quelle Ok Mi mancano quelle No ma se sono il Praticamente ho scoperto Che devo farle asciugare Quindi andrò più veloce di là Cioè le faccio un po' più a manetta Però adesso mi sto divertendo Ok Se urlo di dolore Ignorami Perché me la sono cercata Ok Vai Ciao Ciao Memi Grazie mille della cena Cosa scrive Memi Scusè Emiliano porta il chaining Non è il metodo giusto Roby Vector Secondo me Sì Qualcuno dovrà firmarle In uno si scrive firma? Ok Ah scusatemi Non state vedendo In questo ho scritto Questa è una firma E poi firmo Credo sia giusto ricordare Che cos'è una firma Scrivi firma qua E in questo scrivo T V B Faresti un gattino? Ma certo Subito Quello mi viene abbastanza rapidamente Come disegno Una firma multicolor E non ho altri pennarelli Fichi Non mi ero preparata A dovere Gattino Allora finché è un gatto E finché c'è anche Pikachu sorpreso Riesco a farle subito Tipo Questo è Pikachu sorpreso Sei pronto? Aspetta mi sto Un attimo Effettivamente uscendo Dall'inquadratura Questo lo so fare Una oca Che fa honk C'è una oca Uno smommino Anche se che Cos'è uno smommino? Cos'è uno smommino? Un piccolo Amtaro Ti riesce? Sì Me ne ricordo Come sono fatti Amtaro Amtaro è tipo Così Amtaro è proprio Amtaro E' proprio Amtaro Così c'è la riga arancione Non mi ricordo da che lato Una fetta di pizza Mi piace Dai dai Mi esercito per i firmacobb In questi ultimi minuti Se mi chiedete cose così semplici Posso ancora farcela Credo Una pizza Tipo così Vai C'entra niente con i tarocchi Ma è una pizza La pizza con gli occhiali da sole Adesso inizia a diventare un po' meta Un attimo che Due a panettone Chiara Ferragni Elefante tandem psico da guerra Facilissimo Ma certo Ma certo Lo gioco ogni sera Su Dungeons and Dragons Quello Mio Elefante preferito Qua hanno asciugato Le carte bianche Dai Su Eh dai su Perché possiamo stare ore Con i panni stesi Una mini chiquipe L'hai già fatta No In effetti no Pizza Power pizza Si o giga ciao Faccio un fantasmino Qua Vai Un po' di Halloween La gente si troverà una firma Col fantasma Ma che cazzo voleva dirci questa Esattamente Che minchia vuole Chiara Ferragni Gator Un bel something Così fai a cagare addosso la gente Oddio Sai che potrei In realtà Perché in una delle carte Tià Fatto così no? Si Oh che carino Il something È in una delle carte Questa Questa è una di quei disegni Che posso mettere Aiuto Mi stanno facendo firmare Cinque mila carte Ci starebbe A questo Ho scritto Sei carino No Non ho assunto il gender Madonna Ho il 50% Di possibilità Che questa Arrivi a una persona Con i pronomi maschili Se no Ho fatto un casino Accidenti Non ci ho pensato Sei molto carino Cento Cento Giuro che sono Cichibe Ma perché arrivo troppo Prima di finire Fai rivedere la primissima Che hai fatto Eeeh In fondo in fondo Potrei Madonna Non vedo la di vedere Quali vi arriveranno Cioè Se voi ordinaste Adesso le carte Sul sito Vi beccate Una di queste cartoline La cosa è molto divertente Fa riderissimo Esattamente 48% In uno ci scrivi Che sei Roberta Eeeh Io questo scrivo Bevi Per ricordare Di bere Di idratarsi Così lo faccio Anche io Ah Eeeh Però così Sembra alcolismo E vabbè Ci metto un cuore Bevi Apre la vodka Bevi Bevi Madonna raga Che cosa stupida Da farmi fare Bevi L'acqua Quanto fa ridere Mi sento Street sharks Non so Niente Cos'è Uno street shark Cioè so cos'è Ma è uno squalo In piedi Con jeans Una maglietta Penso Le carte Limited A lucca Non si possono Ritirare Vero No 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 Asdrafil Le limited Non si inviano Direttamente A parte che Rischi che te rubino Ti arriva direttamente A casa No no Le limited Così Così rare Preferiamo Mandarle a casa No no Nessun ritiro A lucca È troppo inside jokes La firma più piccola del mondo Non posso scriverla Devo Almeno che Non la faccia doppia Cioè Faccio una firma Qui Adesso 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 la faccio Anche dietro Così la persona Si becca la firma Grande Però Immagina avere Tutto questo spazio E scrivere qua Che stronza Che maledetta Che sono Guardala È proprio piccolissima È più piccola Che la firma piccola Cioè guarda qua Guarda quanto spazio avevo Tiè Questa cartolina Ha due firme Sei costantemente L'ho macchiata E ti darò la chiamata Ti darò la chiamata E ti darò la chiave Non potrò la chiamata Che passo con te Che passo con te Ragazzi è stato veramente troppo divertente Questo momento Spero di rivarne mille Spero di fotografare per tutta la vita È partito Caparezza Voi mi volete morta Abbiamo sentito tutte le canzoni No Ma che è Usam Non posso chiudere se non parte quella di Usam Firma col ciaddone di fianco Allora Il problema mio è che disegnarvi le cose a Lucca È che non avrò una connessione internet Quindi il ciaddone come me lo ricordo Scusate non si è visto Ah Niente Non avrei nessuna reverence E come lo disegni il ciaddone? A memoria? Faccio un mento Posso esercitarmi a disegnare Cikibe Chad E poi se ne vanno tutti Da qua se ne vanno tutti Non te ne accorgi Ma da qua da qua Se ne va Vanno tutti E qua se ne vanno tutti Da qua se ne vanno tutti Non te ne accorgi Ma da qua se ne vanno tutti Goodbye Malinconia Goodbye Malinconia Ah, grazie Larigan No, ma io intendevo in fiera Qua non so se posso mettermi a disegnare un intero chad Per la cartolina, ricordiamo, di un infante C'è sempre, sempre Il rischio che sia un infante Perché Gigaciao è quel target Poi c'è anche il mio target, assolutamente sì, però Voglio dire Non vogliamo rischiare che un bambino dica Mamma E la mamma dica, che delusione Oh, qua ho fatto una cappa veramente fancy Guarda qua Questa cappa è in corsivo Una cappa Che bello Madonna ragazzi Voi non avete idea Ho passato tre giorni con Ricu E non abbiamo smesso di parlare un secondo Non sto scherzando Eravamo un continuo raccontarci cose Aprile parentesi Siamo troppo simili Secondo me siamo cresciute nello stesso modo Perché prima non eravamo così uguali Oppure nemmeno così affiatate Non abbiamo smesso di parlarci per un secondo solo Adesso ci scriviamo tantissimo anche Vi giuro È raramente così stimolante parlare con una persona per così tanto Perché non parlavamo ovviamente solo di cazzate Tipo No, non gli ho raccontato di quello della Play 4 Fanculo Vabbè, io ho raccontato un sacco di aneddoti che ho detto in live E altri che non posso dire in live Ma a volte ci mettevamo anche a parlare di lavoro Un sacchissimo Veramente Ci mettevamo a fare Ma tu come lo faresti? Tipo, che ne so, una mascotte di questo genere Oppure, non lo so, Joe, secondo me Io non capisco un cazzo di come vanno fatti i reel E ci mettevamo lì a guardare Gli dicevo Io faccio questo Tu conosci qualcuno che ha un sito web E io gli dicevo Se vieni in Italia Vieni Ti presento Tizio, caio Conosco questo brand Che sarebbe troppo contento di lavorare con te Ma 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 Non prendevamo fiato Ve lo giuro Non prendevamo fiato Ce lo siamo pure detto Ho detto Madonna, santa Ma Ma quante cazzo di cose vanno a dirci Sono dieci anni di reclusione Fighissime Ma poi Vabbè Lei mi ha fatto vedere il suo gattino Suo marito Mi ha raccontato un po' Un sacco di cose Non vedo l'ora di rivederlo Mi faceva ridere il chad È lei, è lei È lei No, ma onestamente Lei è una chadona Non Conosco poche persone Così cazzute Così brave Così Che si sono letteralmente Fatte da sole Io la conoscevo Quando Aveva Non posso dare troppe informazioni Mi dispiace però Chi fa il vtubing Rischia sempre Di essere doxato Dagli stalker Perché c'è la La cultura idol Non ho più spazio Su sto tavolo Vi giuro Quindi devo stare molto attenta A quello che dico Però io la conosco Da quando avevo Un altro lavoro Che non era Assolutamente Questo che fa Adesso che la rende felice Ma un altro che non La rendeva felice E la vedevo La vedevo Che doveva Fare altro di lavoro Perché era troppo brava E come dico sempre Perché lo dico sempre Lei mi caga in testa Col disegno È troppo brava Uguali Sì Yapping E poi insieme Abbiamo iniziato a fare Le multilingue Le bilingual Cioè A un certo punto Iniziamo anch'io a parlare Doppia lingua Un po' inglese Un po' italiano Come lei Perché ogni tanto Mezza frase Ce l'hanno Mezza inglese Perché è abituato Ovviamente Perché non vive in Italia Guardate i perfect blue Sono d'accordo Vector Assolutamente Vedi quando sto zitta Quante ne ho firmate? Cento Solo su sto scrivanie Ce ne sono cento Ad asciugare Voilà Non ho più spazio Quindi le asciugo Spazzolo Parentasing Io in realtà Penso che qualcosa Abbia raccontato Ecco Lascio Lascio dire a lei Non Non voglio assolutamente Rischiare di Mettere in pericolo Le persone A cui voglio bene Ciao premano Che esiste In tre mesi Quando sto zitta Cosa che non è successa Manco per un secondo E' vero Non è che sto zitta E' che Parlo Di una cosa sola E tiro dritto Cioè Immagina Che potenziale No 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 Ho rovinato Questa Ragazzi ho scoperto Che questa matitina Piccola Non si asciuga E quindi Adesso È Sbavata Vabbè Ma sembrerà Un errore Di stampa Voglio dire Ora saranno 4.999 Ma no Deve restare lì Quella vale di più Ma infatti Vale di più Dove sono i Ma basta Madonna Dove sono i collezionisti Eh Ma che servono i collezionisti Direi Eh non vale più No no Ma vale di più Vabbè Facciamo che Sto fermo con le mani Aspetto che la natura Faccia il suo corso E mi asciughi le carte Da sola Ho capito True survivor L'errore di stampa Vale sempre di più Yeah Vabbè Poi Le mandi una foto In cui hai fatta bene La firma Io sono più contenta Se capite a voi Così Vabbè Ma è quella cretina Io sì Reaction della chat Infatti mi aspettavo Che mi deste Della clown Ascolta True survivor Fumate Questa è andata Allucca nel preorder Solo preorder Per Matt Vic Anzi Solo ordini online Il modo più semplice Per descrivere Cosa sto facendo è Do un autografo A chiunque Non può averlo dal vivo Chiunque ordina online Avrà un autografo Anche se non può Beccarmi dal vivo Chi invece Va allo stand Di GigaCiao Mi trova lì Ad autografarle Quindi E questa è la differenza Oddio Quindi una è mia 100% Sì 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 E sono troppo curiosa Ti beccherai la numero 8 Ti beccherai la numero 4 Ti beccherai quella Dove c'è scritto Mi raccomando Devi br br Chissà Chissà Oppure una normale Però un paio di shiny Le ho lasciate In una c'è Amtaro In una c'è una firma Piccolissima E in una C'è la firma più grande Che abbia mai fatto In vita mia E fa molto ridere Questa cosa Io devo vedere Come vederci Più di 20 minuti All'anno O in più Vabbè ma io e te Vector Ci becchiamo a centrale Allora In realtà Abbiamo finito Tutte le canzoni Che avevamo E ne rimane una Che è dentro La scatola Di Mondomarsh E i Finley Quindi questa La sentiamo in chiusura Io come promesso Ho fatto tutto Quello che potevo Fare in live Divertendoci Creando anche Un po' di Chatting Cicciatting Tra di noi Perché non mi piace Stare zitta Durante le live Ah e solo In una di queste cartoline C'è scritto TVB Quindi Canonicamente Amici Solo a uno di voi Voglio bene A un altro Gli ho dato dei consigli Sbagliati A uno solo Gli ho detto Che è molto carino Ma non vuol dire Che gli voglia bene Solo a uno Gli voglio bene Immagini incontrare Quel fregno Di Vector No Price Non ha idea Non ha idea Cioè E poi tu Wow E poi io autografo E lui firma Cicchibe di solito A uno ha detto Di bere L'acqua Per essere Proprio sicuri Sicuri Ti taggerò su Instagram Se ne trovi una rarissima No No Ragazzi Se non mi riempite Di storie Io stavolta Mi arrabbio Cioè Per una volta Che potete taggarmi Ma certo È un'ottima idea L'Erican Guarda Mi tolgo anche io E facciamo questa cosa carina Guarda Madonna Applauso all'Erican Che si pensa alle copertine Ti riempi un po' lo schermo Guarda un attimo Che ti faccio una cosa carina Dammi un secondo Che ti riempio i buchi Senza sbavare magari Ecco L'ultima te la metto qui Vai Fai lo screen Quando vuoi Un grande Mi semplifico il lavoro Io che non ho mai aspettato Di avere una scusa per taggare Grazie Guni Lo prezzo L'Erican Dimmi quando hai fatto Che così Così dico alla gente Che Che ci sono Che sono io Mettici i pollicioni Robi Grazie È fatta Eccoci qua Ciao ragazzi Sono nel centro Mi chiudo Mi chiudo Mi tolgo Allora Canzoni finite Io vado A mangiare E dopo aver mangiato Mi rimetterò A firmare Ancora carte Sono in una situazione Un po' particolare In questo momento Ho una telecamera Sopra di me Il telefono del timelapse La tavoletta grafica Quindi Non credo che questo Sia il massimo Della velocità Che posso raggiungere Lo scoprirò Dopo aver fatto L'autopasto Ed essermi messa In sottofondo Boh Il true crime Probabilmente Natsu Grazie dei 68 mesi Ah tra l'altro Devo anche riposare Un po' alla voce Perché prima o poi Dovrà ritornarmi la voce Quindi è anche un buon momento Per stare zitta E non parlare mai più Natsu Grazie mille dei 68 mesi Ben tornato Che bello Spero che il TVB sia per te Vedo che qui siamo arrivati A un sacco di firme Troppo forte Roby Ci si vede a Luca Tieni i fiorellini Intanto Ci si vede a Luca Ti faccio i disegnetti Buona riunione Natsu La riunione è anche Quando vai in bagno L'importante è che Tenere il cuore delle carte Buon appetito Grazie ancora Ivio Veramente Sul serio Scrivimi su Telegram Amici Ci chiperclama da tutti Ci vediamo Nelle storie Instagram Vi lascio Con un ultimissimo hint Sto preparando Il video Della mia vita Il video dove vi parlo Di queste carte Perché è il momento Di tornare su con l'hype Le fiere si avvicinano Il momento preordere è andato Ma fra un po' Ce le avremo fisiche Non ho ancora perso L'emozione Di avere queste carte fisiche È solo che ancora Non ce le ho in mano Non ho la scatolina in mano Ma sto preparando il video Dove vi racconto Tutto quello che è successo Da gennaio Tutto quanto Da come è nata Questa collaborazione A cose successo E perché ho saltato Tutte quelle fiere Al periodo più brutto Che ho passato Ho firmato tutto No Però vado a mangiare E faccio Faccio tutto anche off live Così ho un po' più di spazio Per far asciugare le carte Detto questo La canzone Mordomagio di fine Per chiudere Piangeremo Per fare i fazzoletti Qualcuno ha già visto il video Ha detto che è molto commovente Gabritos L'ha già letto Non l'ha visto Gabritos Ha letto lo script Ha pianto Vado Dai Robby buona cena Buona serata Non solo Robby Ha tutta la chat Sei troppo carino Educato e nice Ti prego Fai che non sia giovedì pomeriggio No mi sa che è venerdì Mi sa che è venerdì Orario di live normale Perché è un po' il tempo Che mi serve per finire Fate i bravi Vi voglio bene Grazie della compagnia E grazie per essere stati Così attivi E così tanti Anche se la live Era improvvisatissima Veramente Spero Di essermi Di essere stata un po' presente Questa settimana Anche se ho dovuto saltare Parecchie live Tra Neva E altri cazzi Poi non c'era Leighton Però Spero che Di avermi fatto abbastanza compagnia Ehm Cigme Talk Vector Ti limono Benissimo Vi lascio soli Mi hai fatto compagnia Compagnia Fatta Poggers Ehm Bye bye E fate i bravi Fate i bravissimi Fate i super mega iper bravi Se non fate i bravi Tornare E Tornare